ciao giovani benvenuti a questo fondato di non capito un cazzo secondo me ci siete dentro pure voi allora quelli che oggi si mettono la mascherina che vanno nei supermercati dappertutto con la mascherina anche se potrebbero non mettersi e quelli che si mettono la mascherina oggi sono quelli che vanno contro il sistema e secondo me ci siete anche voi che non capito un cazzo